Dopo due anni di fermo forzato, Tacchinando apre le porte a Canzano. Quest'anno, oltre alla caratteristica tipica dell'evento che conosciamo tutti, quindi la degustazione enogastronomica dove principe il Tacchino alla canzanese, c'è stata una collaborazione molto importante tra il Consorzio del Tacchino, la Proloco di Canzano, che ha organizzato un prosieguo dell'evento in un'area comunale, il giardino del Palazzo Taraschi. C'è anche la collaborazione con l'associazione Arts & Labor che apre il museo comunale per esporre l'altra eccellenza di Canzano che è rappresentata dal ricamo. Dal 28 al 31 luglio, a seguire di Tacchinando, ci sarà questa manifestazione organizzata come una sorta di after dinner quindi con degustazione di vini abruzzesi e degustazioni a modi finger food di Tacchino alla canzanese rivisitato in una nottica un po' più originale e moderna. A seguire ci saranno quattro complessi durante le quattro serate, ci saranno delle visite guidate al museo del ricamo e nel torrione dove ci saranno esposizioni invece di artisti locali, e anche l'arredamento del locale sarà organizzato da artigiani locali. Tutto questo appunto in un connubio e ne approfitto per ringraziare il Consorzio Tacchino alla canzanese per questa sorta di occasione per rilanciare un po' il territorio dopo questi anni di pandemia e anche con la frana a Canzano. Il piatto principe è il Tacchino alla canzanese. Sarà una sorta di ristorante all'aperto, quindi con possibilità eventualmente, auguriamoci di no, di piogge, c'è la possibilità di un gazebo al coperto, quindi a Canzano vi aspettiamo in tanti.